spunti di vista parliamo di un libro un libro che di fatto è stato dato alle stampe e la cui uscita è prossima la visione geniale leonardo in valdichiana ne parliamo insieme con santino gallorini autore del volume divulgatore storico grazie per essere qui insieme con noi a spunti di vista la visione geniale perché sappiamo che leonardo ha avuto un ruolo direi determinante anche nella valdichiana sì leonardo viene in valdichiana al seguito di vitellozzo vitelli nel giugno del 1502 vitellozzo vitelli aveva sobillato arezzo per farla per farla ribellare alla repubblica di firenze però viene scoperta questa congiura e per cui diciamo gli aretini sono costretti a insorgere prima che vitellozzo sia qua per cui vitellozzo arriva quando ormai arezzo si è liberata dai fiorentini che si sono ritirati nella nel vecchio cassero ancora alla stessa non c'era e con vitellozzo arriva anche leonardo arriva leonardo e adesso con questo libro io ho ripercorso i rapporti di leonardo con vitellozzo e vitelli e anche i rapporti di vitellozzo del fratello paolo e della famiglia vitelli con castiglione fiorentino e per cui riguardando le mappe disegnate da leonardo che hanno come oggetto la val di chiana e adesso è chiaro il perché leonardo di disegna una mappa che ha diciamo come oggetto castiglione fiorentino e montecchio e la valle a la valle impaludata sotto perché c'è questo interesse da parte di vitelli e da parte di vitelli a fare una una operazione che poi dopo ti dirò che poi un'operazione immagino che fosse lungimirante per quei tempi conoscendo anche lo spessore dei protagonisti in fondo sicuramente allora diciamo che i vitelli arrivano a castiglione fiorentino nella fine del 400 1474 perché niccolò viene cacciato da città di castello e deve abitare più di 15 miglia da città di castello e lui si trasferisce a castiglione fiorentino acquista una casa e acquista dei terreni successivamente i figli continueranno ad acquistare terreni e abitazione castiglione fiorentino fino a costruire un grosso palazzo che c'è ancora anche se non si chiama più palazzo vitelli e loro spesso abitano in questo in palazzo in questo palazzo e hanno anche dei terreni un podere proprio vicino a quello che una volta era il lago di broglio il lago di broglio era un lago artificiale che era stato costruito dagli aretini nel 1200 però ecco santino l'aspetto che forse interessa più degli altri anche alla luce di questo volume non lo vogliamo anticipare perché come detto è prossima l'uscita quindi non vogliamo distrarre magari il lettore più interessato la presenza la figura di leonardo ebbe un peso anche per castiglione fiorentino sulla base della documentazione che hai potuto raccogliere diciamo che poi alla fine la stella di vitellozzo si spense abbastanza velocemente qui come ho detto siamo nel giugno luglio del 1502 vitellozzo a fine luglio se ne va dalla zona di arezzo perché il valentino di cui lui era capitano lo lo blocca lo ferma dice deve scedere arezzo a fire al re di francia e per cui poi dopo tramite re di francia ritornerà sotto firenze e lui deve trasferirsi per cui anche leonardo se ne va diciamo questo progetto che leonardo aveva ideato non verrà mai realizzato quindi un progetto c'era stato evidentemente un progetto immagino di riassetto anche complessivo del territorio di alcune zone del territorio ma ti domando santino di solito ti conosciamo come divulgatore di storia contemporanea sono molte le tue ricerche legate per esempio la seconda guerra mondiale al passaggio del fronte qui nella provincia di arezzo a tutte le storie che ci sono state storie più o meno chiare che tu hai provato anche a così a esplicitare anche attraverso la documentazione perché la scelta di tornare indietro nei secoli in questo caso allora io diciamo che mi sono ho iniziato con il medioevo tanto è vero che i primi volumi castiglion ferentino montecchio rigutino erano legati al medioevo e anche al periodo precedente addirittura e questo qui di leonardo è stato fra virgolette un caso un caso nel senso nel mille leonardo morto nel 1519 nel 2019 erano 500 anni e c'era un grosso convegno organizzato dall'università di firenze una ricercatrice della sorbona mi chiese abitando io sul territorio mi chiese se avevo un'idea dove potesse essere una torre disegnata da leonardo su una mappa e da lì sono partito e ho incominciato questa ricerca che adesso si è concretizzata con questa pubblicazione che uscirà come dicevi prima di natale quindi lo possiamo considerare anche un cadò un regalo per coloro che magari intendono approfondire la storia di castiglion fiorentino e quella di leonardo nei suoi rapporti con la valdichiana si è un diciamo che in questa ricerca ho trovato parecchie cose nuove per esempio anche lo stesso niccolò machiavelli che utilizzava castiglion fiorentino come tappa nei suoi viaggi quando si tornava verso firenze castiglion fiorentino in quel periodo chiamato da tutti castiglion aretino dallo stesso leonardo come si può vedere dalla dalla sua mappa e da machiavelli e diciamo che era un un castello molto importante certo e perché perché a pochi chilometri c'era diciamo la repubblica di siena che quel momento era fra virgolette nemica noi valutiamo la situazione adesso soprattutto la disposizione anche dei territori in base alle conoscenze attuali ma all'epoca evidentemente i confini erano molto diversi da quelli di oggi i confini diciamo che lucegnano era già siena e poi c'erano anche gli altri comuni al di là diciamo della val di chiana e praticamente al di là del canale del della chiana tipo montepulciano che era stato sotto firenze fino a poco tempo prima si era ribellato a firenze per cui e anche vitellozzo vitelli insieme al fratello paolo vengono chiamati dalla repubblica fiorentina e loro si stabiliscono con l'esercito in quel caso a castiglion fiorentino a foiano proprio per cercare di combattere contro la repubblica di siena per conquistare e riprendere anche montepulciano ecco santina abbiamo parlato di la presenza di leonardo in val di chiana a castiglion fiorentino nello specifico con la visione geniale facciamo solo così una piccola parentesi perché ci avviamo ormai alla conclusione di questo nostro spazio di questo appuntamento sarai impegnato proprio nei prossimi giorni nella presentazione di un altro volume che ha un carattere direi completamente completamente diverso si è sabato pomeriggio ad anghiari e ci sarà la presentazione di un libro intitolato gigli spezzati è la storia di due sacerdoti del vicariato di anghiari uno era giuseppe don giuseppe tani e l'altro don domenico mencaroni che furono uccisi nel 1944 tani dai repubblichini e mencaroni dai tedeschi quindi ecco questo rientra un po nel tuo filone di studi e di ricerche attuale no si si ritorna alla seconda guerra mondiale il filone che mi ha dato fra virgolette più soddisfazioni perché anche lo stesso presidente ricordiamo la visita del presidente mattarella quindi c'è stato un incontro a civitelle anche prima anche prima anche prima per la chiasa per la chiasa per la chiasa e rosani sì e per cui ecco diciamo che su iniziativa della parrocchia di anghiari e di don alessandro bivignani che è il proposto di anghiari c'è stata questa volontà di ricordare a 80 anni dalla loro morte questi due sacerdoti giovani sacerdoti il tanni erano 5 anni che era stato consacrato sacerdote e l'altro mencaroni erano 9 anni per cui diciamo erano relativamente giovani e tutte e due sono stati uccisi perché perché la l'accusa era quella di aver dato da mangiare agli affamati da bere agli assetati e vestito gli gli udici avevano fatto il cristiano grazie grazie davvero a santino gallorini per essere stato qui insieme con noi abbiamo parlato in modo particolare della visione geniale il libro che uscirà e anche della pubblicazione che sarà poi presentata nei prossimi giorni ad anghiari già uscita che rappresenta in fondo anche una documentazione importante per conoscere ancora meglio un'importante pagina di storia del nostro territorio grazie a santino gallorini la linea per il momento può tornare alla regia